Siamo Maurizio Rovini, vennerò sì al referendum sul nucleare, perché credo che l'Italia non abbia bisogno di un nucleare, di utilizzare benissimo le energie alternative che vengono dal sole, dal vento, dall'acqua. In più il nucleare in Italia sarebbe un fallimento, basta vedere come riusciamo a fare l'incidenitore, gestire i rifiuti per darsi un'idea della tecnologia italiana. Non è certamente in grado di leggere questa alta tecnologia che serve per il nucleare. Grazie a tutti.